Vabbè, dopo esserci allenati, ovviamente oggi di nuovo Goffredo ha pensato di cucinare qualcosa di estremamente sano e leggero. Quindi oggi hamburger con Goffo? A me con Cesar, uova, lattuga e burro. L'allenamento è inutile, guarda, anche Sara. Sara, ma come mai sei così? Oggi è N.C.S. Perché? Non ci siamo. Oh no. Siamo in quel periodo lì? Ai 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 ai. No. No. No.